Professor Bennato, che settimana cinematografica è stata la sua? È andato al cinema? No, in realtà no, non sono andato al cinema, mi sto preparando invece per partecipare ad una mostra di libri, quindi sto leggendo un po' di libri. Professor Bennato, l'ultimo film, l'ultima volta che è andato al cinema? L'ultimo film che ho visto è stato The Menu e mi è piaciuto anche tanto. Le è piaciuto anche tanto. Allora, professor Bennato, professor Bovalino, professor Savonardo, l'offerta di questa settimana giudicata, analizzata e criticata da voi. Professor Bennato, Catania. Allora, la prima cosa che salta all'occhio e che mi ha lasciato piuttosto colpito è che sono quasi tutte pellicole che si dipanano e che entrano in conflitto col corpo della donna. Ci sono donne violentate, donne contese fra due uomini, ci sono donne che combattono con i figli cercandoli di difendere. Cioè è tutta giocata praticamente sull'identità e sul corpo della donna, il che fondamentalmente la dice lunga sul periodo che stiamo vivendo, in cui si cerca di dare una visibilità e anche una preminenza culturale alle donne che le rilegge in chiave molto diversa, come diciamo così coloro le quali muovono i fili delle storie del destino come d'altronde è stato. Per quanto invece riguarda l'aspetto più, diciamo così, legati ai miei gusti, l'aspetto più estetico, veramente sono piuttosto spaisato perché non c'è quella pellicola che dici, caspita questa qua, non me la posso perdere assolutamente. C'è sicuramente i Guardiani della Galassia, ma ormai lo faccio più che altro perché mi piace quando i marberi si prendono in giro da soli, quindi questa è la componente che me li rende piuttosto simpatici e questo al netto del fatto che quel tipo di cinema fantastico mi è piaciuto fino a un certo punto, poi a un certo punto ho cominciato ad odiarlo. C'è un film in particolare che mi incuriosisce e che è la quattordicesima domenica del tempo ordinario, anche se in realtà amo Pupi Avati quando fa il regista di film horror, a me è sempre piaciuto il Pupi Avati horror, però sono curioso di vedere questo film anche se credo che non ne apprezzerò tutte le sfumature perché c'è un tempo per ogni cosa e anche per i film che giocati sulla memoria ambientati a Bologna, secondo me è un tempo che ancora non mi appartiene. Una sola cosa vorrei dire alla produzione che sta dietro Dark Matter e Dote Death, leggendo le trame mi sono sembrati molto interessanti e molto affascinanti, ma i clip e i trailer che girano online sono praticamente incomprensibili, se posso dare un'indicazione, se si vuole attirare il pubblico in sala, al netto delle critiche cinematografiche. Secondo me un lavoro un pochettino più articolato sull'aspetto del trailing bisognerebbe lavorarci senza fare ovviamente spoiler da quello che ho capito. Professor Bovalino, l'offerta della settimana. Professor Bennato, andiamo a Catania. Diciamo che è noto con estremo piacere il fatto che c'è una dominanza del cinema fantastico in tutta la classifica e mi riferisco all'orribile Super Mario Bros. Da questo punto di vista mi trovo perfettamente d'accordo con Caprara con cui condivido molti punti di vista per quanto riguarda questo film. Sicuramente La Casa, fra i film nei top 3, il mio preferito e a proposito del cinema fantastico sicuramente il film di Nanni Moretti, perché non trovo altri modi per definirlo, dato che è un film che parla di sé, che rilegge in chiave alla otto e mezzo un po' di dinamiche registri e così via dicendo. Secondo me quello che è il fascino del cinema di Moretti sostanzialmente è questo, come il comfort food. Noi tutti abbiamo un cibo a cui ci rifugiamo quando vogliamo sentirci in pace col mondo. Ecco, i film di Moretti, soprattutto quelli ben riusciti, hanno questa caratteristica, è comfort cinema. Sentiamo anche i nostri amici docenti, tre amici docenti, Savonardo, Bovalino e Bennato, per quanto riguarda i Davide di Donatello. Qual è il vostro pensiero? Una riflessione notturna. Professore Savonardo. Davide, Bennato, i Davide di Donatello. Davide sui Davide praticamente. Allora, per quanto mi riguarda dunque, da punto di vista puramente analitico e razionale, posso dire che i Davide di Donatello mi sembrano molto interessanti perché fanno capire che tipo di effervescenza culturale e produttiva c'è nel cinema italiano. Quindi sicuramente io proverò a seguirli, ma soprattutto proverò a documentarmi su tutte le informazioni che gireranno in rete su questo argomento. Da punto di vista più emotivo, io tifo per la stranezza, perché ormai da Calabrese tra piantato in Sicilia, nella fattispecie a Catania, non posso che tifare per quel tipo di cultura ottocentesca siciliana molto affascinante. Allora, per chiudere, Angelic Cavallari.